Tu sei ritirata dalla casa? Come andate? Andate! Si! Si! Da così ti ce la c'è! Mi sento di giuchara! Mamma mia che non voglio fare così! Sono stata seduta il vino là! A me scegna me! A me scegna! Come fa? E che si è? C'è? Hai ci sentito un po'? C'è? Giovanna e Marguerite! E io che mi credevo! E io che mi credevo! E che ti credevo Pieri? Che ti credevo? Succede tutto a questo mondo! A me fatto una sceneggiata a me parte! Ah una sceneggiata? E intanto c'ha il Geremizio! Si! Fora figli! Ma che stai a dire? Che stai a dire? Vedi cacca! C'ha il Geremizio cacca! Quella la! Sopra qui! Sopra qui! Sopra qui! Dici a Geremizio! E ora mettiamo un cacca ad me! E tu? E tu che ti crede! Vedi cacca! Ho già venito! Io sono venito! D'hai venito! C'è l'unica! Ognuno si è fatto solito! Ah non posso parlare! Oh zi! Dicetemi radegare! Dicetemi radegare! Voi dite che facciamo che ci siamo facciate! Ma è anche polire! Sì, sì, stiamo facendo tutti quanti. Siamo facendo un macelletto a papà. E un mezzo più rosso è la reggia. Sorelle, sorelle, venite in chiesa. Avete tutti quanti bisogno di una confessione. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Hai capito? Non credo più niente. Non so, 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 non so. Ma che sta succedendo? Eh, penso di aver capito che Giovanni e Margherita si amano ancora. Evviva, allegria, si fa questo già. Sì, chi se ne ha capito? Chi? 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 ость. No,kes. Chi? Buon rum해, sei. Miサ Luz, puoi. упite te? callsi, su определенo? Ma banca. Sopo tuvo ancora proprio perché adesso partnership exudirbbe eatable. ma do albo un eliminate di video.